Allora, con Michele Vilardi l'allenatore è stato chiamato in ballo proprio da To Bomber Conte e ha detto che la scintilla è stata quando sei stato espulso di te. Cosa è successo? Dovevo dare una carica ai ragazzi e ci avevano bisogno di qualcosa in più. Merito tutto loro, io non c'entro niente. Un grande merito loro. Merito loro. Una partita tesa, una vera finale di Champions perché sta intensa. Peccato per qualche scintilla, ma per una partita tesa ci sta tutto. La scintilla di nervosismo, però è giusto così per una finale. Con te facciamo un bilancio della stagione di supereroe. Siete stati impegnati nel campionato di Orbetello-Pozzarello. Siete stati comunque una squadra che ha vinto il proprio girone e poi ha perso la finale del campionato unificato. Insomma, un giudizio sulla vostra stagione in complessivo. È stata una grandissima stagione. Mi dispiace anche per essere uscito dai regionali, perché quest'anno abbiamo partecipato anche ai regionali. e volevo ringraziare lui. Lui è veramente un fuoriclasse. Luca Olanio è veramente un fuoriclasse. È un fuoriclasse e nonostante il suo handicap non lo dimostra in campo, anzi dimostra di essere veramente più forte per me in assoluto. Grazie. In assoluto. E per il resto, niente, sono contento così stagione favolosa. Bene.